il nome è la tua storia beh comunque io ti ho sempre chiamato Giovanna come Domenico è la versione italiana di Jessica Giovanna come Domenico non so nemmeno come fa di nome lo senti chiamato Domenico Domenico Albertini è sempre stata così quindi l'ora in poi sarà Oui Oui Giovanna Oui Oui Giovanna Oui Oui Giovanna Non mi piace Giovanna Oui Oui eh Giovanna eh Giovanna ti veniamo a prendere stasera Giovanna sai Giovanna sai Giovanna no Giovanna no Giovanna mi ricordo la Giovanna Bova è vero Dio quel po' un enorme comunque bellissimo per il momento ho solo col montare a prendere deve arrivare almeno a quattro Jesse deve arrivare almeno a cinque a quattro non importa cosa ci faccio si la vedi che lì si copi un rosso come il rosso ma un rosso ma ma no è che si fa un pellicano un pellicano no è che da fassurito vabbè immagino dopo tre minuti tre minuti che ero di un mal di testa fa sempre così scusate scusate non è vero c'è te fai così quando ti ecciti quando ti ecciti e quando ridi no ha detto quando ho visto Robert Pattinson mi ha preso la bottiglia mi ha preso la bottiglia e mi stava mi ha preso la bottiglia e mi stava ahhh ahhh e anche lei è parte la vita anche lei attenzione mi piaccia è la nostra chiesa no 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 qui è la barbola ci odiano ragazzi noi siamo qui noi quando hanno fatto la chiesa con la cosa illuminata ci viene una raga Andre ti abbiamo beccato mi dispiace io non rido hai riso adesso così cazzo non lo dico adesso non lo dico adesso si allora lei rida come me quando hai rito per 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 me io a parte adesso non credo che non ho mai sentito ridere io no ma io adesso no io non rido come quell'altro io non mangio chi è quell'altro? chi è stato delle due chi è stato delle due ricca Посaha eee ecco sentita Andrea che porfa scorra per vino vai Andrea vai Andrea vai ah evet 最後 voglio la cosa Cos'è stato? Cos'è stato? Porca madre! Cos'è stato? Una compu pazzesca! È partito punteggio per due!